ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video siamo in partenza per quel di andorra oggi prima tappa verrà fatta sul sulle gole del verdone in pratica nella regione del verdone in francia sono circa 600 chilometri infatti sono partito molto presto sono le 5 di mattina primo tratto lo farò in autostrada fino a cuneo dopo inizierò a salire verso il col della lombarda comunque vabbè il primo tratto non ve lo farò fare in moto tutta autostrada giustamente poi sono le 5 la mattina molto presto quindi non vedreste niente non so neanche se vedete niente adesso e niente a dopo eccoci ragazzi siamo arrivati cioè sono arrivato in quel di cuneo dopo un bel po di autostrada se dovrei essere più o meno metà strada per quanto riguarda il tragitto totale fino al postato fino al lago del verdone dovrebbe essere lo san qua ragazzi adesso ci vedremo un po dopo la città appena si comincerà a salire quindi ragazzi a dopo che ragazzi guardate che bella vallata dobbiamo essere in valle stura se non sbaglio ok ragazzi fra un po ci sarà la deviazione fra un paio di chilometri e andremo verso il colle della lombarda che comunque è confine qua siamo vicini a vinadio località famosa per l'acqua la sant'anna di vinadio paesi sono molto molto caratteristici paesi montani ok colle della lombarda che è aperto perfetto ma che bello che spettacolo paio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello il laghetto bello 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 c'è la Francia ragazzi di là c'è la Francia. Ragazzi eccoci Colle della Lombarda davvero fantastico. Qua adesso state vedendo il versante che si affaccia sull'Italia ancora che ragazzi siamo proprio in cima al Colle della Lombarda. Ho venuto a vedere questo monumento questo deve essere non so un alce qualcosa molto bello. Comunque guardate il panorama bellissimo ragazzi cosa ne dite bello o no? Comunque adesso rimonterò in moto. Spettacolare ma mi sa che ci sono dei fortini della guerra dei tempi della guerra bellissimo. Un versante francese di è in Francia siamo in Francia qua. bello bello bello. Ora ragazzi dal di dietro dall'alce adesso continuerò la mia strada scenderò appunto il passo del Colle della Lombarda al versante francese e penso entreremo quasi subito nella Val del Verdun. Dove Verdun è un fiume comunque crea questo canyon il canyon più più grande d'Europa e noi andremo proprio a vederlo quindi a dopo. Ok iniziamo la discesa del Colle della Lombarda. Davvero molto molto bello caratteristico e suggestivo. Ora ci troviamo in Francia. confine non c'era nessuno nel Gennarmeria non so magari magari ci sarà più in là qualche dogana qualcosa non lo so vedremo. Alla prossima tappa che ho segnato mancano 90 chilometri e 92 chilometri penso che dovrò fare ancora un 200 chilometri come massimo. Comunque prossima sosta prevista per pranzo io direi che ci vediamo un po' più in là. Guardate che spettacolo! ecco mi sa che questa è la Val del Verdun. Ok ragazzi mi sono sbagliato questo qua è il fiume Var quello che passa di qua che crea questo canyon questa gola. Quindi ancora non siamo in Val Verdun nelle gole del Verdun diciamo. eccoci ragazzi mi sono fermato per pranzo in questa questa questo paese medievale. molto bello guardate si affaccia sul fiume Var e c'è un castello la così guardate che bello. poi dopo pranzo mi rimangono una settantina di chilometri credo anche di meno per arrivare alla mia prima destinazione di oggi. c'è prima la mia destinazione di giornata. molto bello guardate c'è prima la mia destinazione di oggi. ok ragazzi si riparte adesso dovremmo entrare davvero nel Val Verdun per arrivare al lago di Saint Croix comunque mancano un'ottantina di chilometri poco più poco meno. siamo ancora a l'entrevue inizia a fare molto molto caldo 1,2,3,4 scopriamo 2,5,4,0,3,4,5,0 6,4,0 5,0,4,4,0 7,1,3,4,0 ragazzi guardate che spettacolo le gole del verdon un po' 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 un il grifone vabbè se un grifone un'aquila qualcosa che bello avete visto guarda guardalo spettacolo spettacolo spero che l'abbiate visto ragazzi fantastico stiamo arrivando in riva si scorge da qua al lago Sancroix dove cercherò di pernottare stanotte che spettacolo ragazzi wow qua è ancora più bello che bello guarda che spettacolo della natura ragazzi guardate qua lago Sancroix ragazzi che spettacolo eccoci ragazzi tenda montata siamo qua in campeggio ok adesso vado a farmi una doccia perché sono impresentabile non ce la faccio più ragazzi sono veramente distrutto fatto più di 500 chilometri oggi che dire bei panorami cosa dite io vi saluterei qua vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video quindi ragazzi grazie ancora per la visione e alla prossima ciao 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 ciao